300.000 euro stanziati per la nuova condotta che collegherà i quartieri Cappuccini e Monte Rosello. Da lunedì 26 agosto aprirà un altro cantiere dall'importanza strategica per rendere più efficiente la rete idrica di Sassari. Il lavoro è imponente perché richiederà la sostituzione integrale di 300 metri di una vecchia tubatura in acciaio, il cui collasso è stato evitato fino ad oggi soltanto con le frequenti manutenzioni dei tecnici a Banoa. La nuova condotta sarà in ghisa sferoidale, materiale che consente una migliore tenuta, del diametro di quasi mezzo metro. Dal bilancio a Banoa provengono i 300.000 euro con cui si finanzierà l'opera, inclusa nel programma trimestrale delle manutenzioni straordinarie. Risale allo scorso maggio invece un altro intervento con la sostituzione del tratto precedente tra le vie Ruggio e Carso grazie a un investimento di 70.000 euro. Il cantiere prenderà il via, come detto da lunedì, con una prima tappa in via Ruggio nel quartiere Capuccini, proseguendo poi verso la vallata di Ebagiara, in prossimità del viadotto, per raggiungere infine l'altro versante. I lavori dovrebbero concludersi nell'arco di un mese e mezzo circa, permettendo un miglioramento del servizio nelle zone di Monte Rosello Medio e Alto, Sassari 2 e Badde Petrosa. Il piano di miglioramento delle reti idriche vuole principalmente ammodernare il sistema, lì dove si sono registrati i frequenti disservizi per i cittadini e notevoli perdite di acqua.